Un gigantesco arazzo lungo ben a 27 metri è stato srotolato dalla torre di Palazzo Cavallo ad Arezzo. Si tratta di un'opera d'arte collettiva realizzata da oltre 40 tra aziende, artisti ed associazioni che hanno fornito creazioni in tessuto, lana, pelle o altro materiale di recupero che sono stati così assemblati con cura artigianale per celebrare i 50 anni della Fiera dell'Antiquariato. L'opera si chiama Astag Arazzo ed è un'esposizione inconsueta dedicata ai due simboli della città di Arezzo, la torre e la fiera antiquaria. L'iniziativa è nata da un'idea di Laura Folli, restauratrice tessile dell'Associazione Culturale La Staffetta che ha lanciato una forma di street art denominata Bombardamento Tessile. L'idea è stata raccolta da CNA che tramite canali social ha richiamato appassionati, artisti e associazioni d'aziende del settore che hanno regalato un pezzetto della propria capacità, dalla maglia all'uncinetto, dal feltro alla pittura e molto altro ancora. Ovviamente per un arazzo così scenografico l'installazione non poteva essere da meno. È stata infatti utilizzata una tecnica innovativa e di grande impatto visivo mutuata dall'alpinismo senza ponteggi.